Prima volevo vedere con voi una cosa che c'entra col cinema e che mi ha fatto veramente imbestialire, perché come dicevo io credo nella libertà delle storie, nella libertà delle storie non me ne frega un cazzo della fedeltà, di queste robe qua e ho scoperto che Il Potere del Cane, che è un film ambientato nel Far West di Jane Campion, che è candidato all'Oscar, io l'ho visto, a me è piaciuto non mi ha fatto impazzire, ma mi è piaciuto parecchio perché è veramente un film sofisticato vi posso dire che è il classico film che voi guardate e dite ma di che cazzo parla sto film? è molto sofisticato l'argomento di cui parla perché c'è un gioco di potere psicologico tra il protagonista che fa un po' la parte del cattivo che è l'attore, come si chiama, ditemi se sbaglio Benedict Cumberbatch è lui, l'attore che fa Doctor Strange sì, è lui, è lui, è lui allora, l'attore che fa Doctor Strange è uno dei due protagonisti di questo film e il suo personaggio è un cowboy molto ostile, molto aggressivo mentre c'è un ragazzino nella storia che è un po' effeminato insomma ha delle cose, ha un carattere molto particolare che non è un carattere che si addice a un uomo del Far West e chiaramente c'è uno scontro tra questi due personaggi che è uno scontro psicologico ma il film in realtà parlerà non solo di questo, di questo scontro ma anche di una certa omosessualità latente e anche causa di una iperaggressività è un film estremamente sofisticato cioè, estremamente sofisticato non è un film che parla di cowboy, di Far West in quel senso, è ambientato in quell'epoca è tratto da un libro, quindi la tematica è presa dal libro ma si occupa di quello quello che mi ha dato molto fastidio come potete leggere da questo titolo che è un titolo clickbait e per intenderci clickbait non è un'accezione negativa ci sono i clickbait falsi cioè quelli che non ti danno ciò che ti promettono e questo non è un clickbait falso però è un titolo che attrae l'attenzione il potere del cane per Sam Elliot che è questo attore che vedete sulla sinistra che ha fatto decine di film western adesso ve lo faccio rivedere in un'altra foto perché lo riconoscerete meglio è un attore che ha sempre fatto ruoli in cui era molto simpatico, diciamo un attore che faceva un po' non era quasi mai protagonista ciao la Steffi, benvenuta questo attore, Sam Elliot questo con i baffoni bianchi ha fatto un intervento veramente veramente al limite del trash riguardo al potere del cane che come vi ho detto è un film che parla anche di omosessualità ha detto vogliamo davvero parlare di quel mucchio di merda? ecco come erano rappresentati i cowboy in quel film vanno tutti in giro in gambali e senza maglietta ci sono tutte queste allusioni all'omosessualità in tutto il fottuto film il film per questo mi dispiace dirlo perché a me lui come attore nei ruoli che in persona mi è sempre stato simpatico ora mi sta letteralmente sui coglioni perché traspare un'omofobia e poi vedrete anche un sessismo pazzesco cioè che siamo all'opposto del political correct Jane Campion è un regista brillante qua fa il paraculo adoro i suoi lavori precedenti ma che cazzo ne sa questa donna della Nuova Zelanda del western americano allora innanzitutto questa è la più grande stronzata del mondo perché se una se una un regista dovesse fare solo i film del paese in cui è nato saremmo senza film cioè noi saremmo senza tonnellate di film Sergio Leone ha girato quasi tutti i suoi film a cinecittà e sono i film del west americano i suoi film western sono del a me è piaciuto il potere del cane anche a me non parlava neanche neanche di uomini ma di sessualità secondo me cioè è un film che parla di omosessualità molto intrigante perché che è l'omosessualità come cioè è un è il motivo è il motivo per cui uno dei due personaggi interpretato appunto da dall'attore di di dottor strange benedith camberbatch è aggressivo perché in un ambiente come l'west essere omosessuali è qualcosa di travolgente cioè capitemi voi quindi è molto figa l'idea in più c'è anche un thriller dentro scoprirete quindi è una roba ragazzi che mi sembra un film così tanto per per vedere un film sulle praterie invece poi si rivela una cosa intrigantissima è molto lento molto sofisticato tutto quel cazzo che volete quindi ad alcuni non piacerà sono d'accordo io non mi sono strappato i capelli però quando ho finito di vederlo mi sono detto ma porco zio ma questa donna è un genio io vorrei avere un decimo del cervello che ha questa questa regista qua Jane Campion ma non perché ha vinto l'Oscar ed è una delle poche donne che ha vinto l'Oscar come miglior film e bla 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 cioè è veramente sofisticata la storia come la come la tocca come la tocca piano grande Alex benvenuto come la tocca piano quindi gran film poi ti ho detto non è un film che mi ha fatto impazzire però non nego la sua grandissima bravura cioè qualcuno poi mi spieghi perché nel mio streamlabs mi vengono gli simboli prima dei messaggi dovrò dare una resettata a tutto e poi finisce benedict camberbatch sarà a cavallo una volta in tutto il cazzo di film si atteggia da cowboy suonando il banjo ma i cowboy erano tutt'altro dove è il western di questo western ma mi sembra un'idea retrograta non era l'intento raccontare questa cosa e anche se si fosse vestito da cowboy come martin mcfly in ritorno al futuro 3 non so se avete presente che ha i vestiti da cowboy da travestimento di carnevale e finisce nel far west dove sono vestiti come appunto nei film di Sergio Leone ecco non me ne frega un cazzo sinceramente quello che mi frega è che una persona influente comunque cioè un attore famoso che poi le sue merdate che gli escono dalla bocca vengono riportate in tutto il mondo si esprima così lo trovo veramente allucinante lo trovo allucinante dove Doc gli chiede giustamente chi lo ha vestito in quel modo ed è stato lui in realtà a dargli i vestiti nel futuro e quindi questa è un po' la cosa che mi riporta un tema mio carissimo il mio tema carissimo è questo a me interessano le storie poi uno può anche pensarla come Sam Elliot ed essere così ottuso così conservatore se vogliamo dirla tutta secondo me i cowboy nella solitudine si scopavano tra di loro si scopavano le mucche si scopavano le capre si scopavano qualunque cosa pur i cadaveri lo dico perché l'omosessualità è una sessualità che c'è sempre stata è sempre esistita e nella realtà dei fatti quindi in guerra in far west era anche spesso una guerra per un motivo per l'altro stavano sempre spararsi addosso ne succedono di tutti i colori quindi i film western che abbiamo visto sono film per intrattenerci il Sergio Leone ci ha raccontato il far west che voleva raccontare lui e ha fatto bene ognuno racconta il western come cazzo vuole non me ne frega proprio una sega a me se questo western non è attinente al 100% come era il far west detto ciò Jane Campion si è attenuta a un libro da cui è tratto il film quindi sta su The Doss se è meglio va c'è Pirate ora mi stai anche un po' sulle palle per come proprio per come ti esprimi poi veramente lo trovo veramente una roba iper aggressiva e questa questa incazzatura mi ricorda un po' l'incazzatura che c'è contro dare argento che c'è contro non aprite quella porta è che due coglioni ragazzi siete dei frustrati di merda tu se è meglio e tutti gli altri sui social a rompere i coglioni ma poi se è meglio c'era per dire così infatti non c'era ma sono persone che si riempiono il cervello di convinzioni come per esempio io che sono americano posso parlare del far west tu che sei neozelandese non puoi parlare del far west cioè magari se è documentata ne sa cento volte più di te e tu perché hai fatto quattro film western fasulli perché poi quella non era la realtà quella non era la realtà quello era il cinema cioè che cazzo questo è ignorante questa gente così ignorante che è convinta che il cinema sia istruzione che il cinema sia come il sostituto della scuola del libro del libro di storia del libro storico le fonti sono bravi infatti Silvano grazie per il supporto perché questa è appunto una frase che spiega bene le fonti sono le stesse che poi oltretutto oggi ha maggior ragione con internet e tutto ha maggior ragione le fonti sono le stesse non è che Jane Campion deve andare alla biblioteca negli Stati Uniti a cercare il libro no c'è tutto tutto quello che un americano cerca per fare un film western lo trova come lo troverebbe un inglese un italiano eccetera poi anche se ci fosse qualche errore di rappresentazione se stiamo parlando di cinema non di giornalismo stiamo parlando di cinema non di giornalismo quindi tu ti devi porre nelle condizioni di capire qual è l'intento del regista e del narratore se l'intento è un altro cioè raccontare l'aggressività che poi oltretutto tu manifesti questa aggressività a me mi fa solo pensare uno che sei omosessuale tu perché ti incavoli tanto se vedi degli omosessuali in un film western questa è la prima reazione che ho avuto io pensare vabbè questo sarà un altro omosessuale replesso che si vergogna e si sente male a reprimere le proprie pulsioni verso gli altri uomini c'è un inglese torniamo sempre alla barzelletta c'è un inglese un neo-zelandese un italiano che vogliono fare un film western e Sam Elliot dice cumulo di merda c'è un inglese c'è un inglese c'è un inglese fare dunque c'è un inglese jak tsh Grazie a tutti